Non dimentichiamo che dall'Africa occidentale negli ultimi mesi viene circa il 70% dei flussi migratori che attraverso la Libia arrivano in Italia, quindi la instabilità e le minacce in questo paese, in generale in quell'area africana, hanno anche delle conseguenze per il nostro paese e naturalmente l'attacco terroristico ad Ankara rende la situazione ancora più delicata in quel paese. Quindi impegno, solidarietà alle famiglie, ai governi e grande attenzione per la diffusione del terrorismo in Africa.